devo dire ciao sono valeria ciao sono valeria nefando ho appena finito il terzo anno dell'accademia iliana paduano in questo momento appena finito l'esame è andato benissimo spero e l'ansia mano mano sta passando in questi tre anni mi sono trovata molto bene l'accademia è piena di docenti professionalissimi ti riescono veramente ad aiutare nel tuo percorso qualsiasi dubbio tu abbia le compagne anche sono stata fortunata perché ho avuto una classe veramente impeccabile se c'era bisogno di aiuto tra di noi ci siamo sempre aiutate le docenti sono sempre state di aiuto a noi ragazze qualsiasi dubbio ci venisse sono sempre venute incontro la spiegazione nelle loro materie è sempre stata impeccabile anche nei concetti un po più complicati riuscivano sempre a semplificarli in maniera tale da impararli al meglio consiglio iliana paduano perché punto è l'unica accademia di estetica che secondo me ti forma al cento per cento perché noi abbiamo effettuato non solo corsi appunto sulla base dell'estetica ma anche lezioni come psicologia cosmetologia che appunto riescono ad aiutarti appieno nel tuo percorso rifare questa scelta che altre mille volte non me ne pento assolutamente e la consiglio a chiunque abbia appunto il sogno di diventare estetica o qualsiasi cosa che riguardi questo settore ciao a tutti un bacio dall'accademia